buongiorno e benvenuti su soluzioni pc oggi andremo a vedere come installare dalla a alla z open office sul vostro computer in modo semplice e guidato benissimo per prima cosa dobbiamo scaricare open office quindi apriamo il browser e digitiamo sulla barra di ricerca open office come avevo già cercato io molto bene il risultato naturalmente sempre scontato ma non sempre lo è per il fatto che a volte google quando andiamo a ricercare di per scaricare dei programmi non sempre mette come primo risultato il sito ufficiale o il posto dove dobbiamo realmente andare a cercare perché ci sono tanti siti che fanno da container di programmi dove ti inseriscono altri programmi spyware tutta monnezza che sta lì e ti intasa il computer quindi è importantissimo che quando andate a cercare un programma prima di cliccare sul link del sito controlliate sempre la url del sito per esempio andiamo a vedere questo primo risultato l'url è www.openoffice.org che presumibilmente è il sito ufficiale di open office cosa valorata anche da quello che c'è scritto sotto sito ufficiale quindi è importantissimo andare a prelevare i programmi dai siti dei produttori e non da siti terzi clicchiamo sul sul link allora come prima cosa vediamo che c'è un bel tasto verde dove c'è scritto download che è la cosa che ci interessa quindi andiamo immediatamente a cliccare su download in questa schermata dobbiamo selezionare il nostro sistema operativo per scegliere il pacchetto da scaricare nel nostro caso windows la lingua che è già italiano e la versione che va benissimo l'ultima disponibile poi clicchiamo su scarica versione completa e ci riporterà su un altro sito adesso non vi spaventate che non è lo stesso sito da cui vogliamo scaricare office cioè il sito ufficiale perché open office si appoggia a in questo caso un altro sito che è sourceforge clicchiamo su salva il pacchetto e in pochi secondi viene scaricato siete visto poco fa sono andato a salvarlo dentro download entrando nella cartella download me lo ritrovo ci faccio due volte clic sopra e partirà l'installazione eccoci qua in questa schermata dobbiamo selezionare il punto in cui verrà installato lui si crea un suo indirizzo e in realtà la maggior parte delle volte va benissimo quello andiamo a cliccare su decomprimi e partirà l'installazione spacchetterà un suo pacchetto che avvierà la vera installazione perché quella precedente era semplicemente la decompressione del pacchetto che abbiamo scaricato andiamo avanti qui ci chiede delle informazioni che possiamo anche bypassare adesso dobbiamo andare a scegliere se fare un'installazione tipica o personalizzata io la maggior parte delle volte faccio la personalizzata perché mi da più scelta però se non vi sentite tranquilli anche la tipica di solito va bene andiamo su personalizzata che ci fa scegliere tutti i componenti che nel caso di open office vanno bene quelli che ci sono quindi semplicemente andrò avanti qui ci chiede l'associazione dei file cioè se i documenti tipo word i fogli elettronici di tipo excel o quelli di presentazione power point debbano essere aperti con il programma open office in questo caso gli diciamo di sì lasciamo tutto flaggato e andiamo avanti vogliamo un collegamento sul desktop sì perché molto comodo e andiamo all'installazione entro pochi secondi installerà programma e andremo a vedere pure come si apre ok una volta finito premiamo su fine andiamo sul desktop ed ecco qui la nostra icona di open office abbiamo anche una cartella con i file di installazione che possiamo tranquillamente cancellare una volta conclusa per aprire il programma clicchiamo due volte su open office qui ci verrà chiesto una prima configurazione che possiamo anche mandare avanti e qui andremo a scegliere quello che ci serve il documento di testo il foglio elettronico disegni una presentazione o qualsiasi cosa offra open office quindi cliccando ci si apre il programma poi adatto alle nostre esigenze detto questo dovrebbe essere tutto spero di esservi stato utile e di avervi risolto un problema se è così mettete un like e per favore iscrivetevi per altre soluzioni pc ci vediamo alla prossima lasciate un commento se avete qualche dubbio o qualche richiesta ciao